Un'esplosione in una fabbrica di pezzi d'automobile in Cina ha provocato almeno 65 morti e un centinaio di feriti. È accaduto alle prime ore del mattino a Kunshan, nella provincia orientale di Yangsu. Al momento dell'esplosione avvenuta in un laboratorio per la pulitura delle ruote nel sito si trovavano oltre 200 lavoratori. La fabbrica conta fra i propri clienti diverse società statunitensi.